Torna in primo piano sulla scena in internazionale il sito Wikileaks di Julian Assange. In alcune anticipazioni che sono state portate dal quotidiano francese Liberation, i servizi segreti americani avrebbero spiato ed inintercettato conversazioni dei presidenti ex francesi ed attuali Chirac, Hollande e Sarkozy sulla crisi finanziaria globale, su quella della Grecia e i rapporti tra l'amministrazione Hollande ed il governo tedesco. Dopo la diffusione delle anticipazioni in immediate è stata la risposta della Casa Bianca dicendo tra l'altro che noi stiamo spiando il governo francese e ne lo faremo anche se nella mezza smentita non si esclude di averlo fatto in passato.